Controffensiva della maggioranza al comune di Alghero dopo le ennesime accuse degli esponenti consigliari dei 5 Stelle sul caso Puntagiglio per un aver vigilato sul territorio. Le dimissioni chieste dai grillini sul management del parco di Portoconte vengono rispedite al mittente. In una nota si chiarisce che leggi e regolamenti servono a delineare i comportamenti corretti da adottare da tutti i cittadini. Il rilascio di ben 14 pareri espressi dagli uffici competenti sulla questione Puntagiglio e il giudizio positivo espresso dalla sopraintendente ai beni ambientali e da ultimo dal ministro Franceschini. Dimostrano che la pratica è in linea con le sue vere norme amministrative, urbanistiche, edilizie ed ambientali. Chiedere le dimissioni di una governance che rispetta le regole le applica in coerenza ai dettami della Costituzione e della regolarità delle procedure adottate a garanzia di tutti i cittadini è un atteggiamento profondamente incoerente e contraddittorio. La maggioranza che amministra la città ritiene che il CDA del parco di Portoconte ed il suo direttore abbiano rispettato le norme e regolamenti. Senza ciò venire meno al loro dovere di vigilanza e controllo sui beni ambientali di così tanto pregio, svolgendo le loro mansioni con grande impegno, responsabilità e anche sacrificio personale. Questa maggioranza chiede alle rappresentanti del Movimento 5 Stelle di rassegnare le loro dimissioni per comportamento omissivo e strumentale, posto in essere sulla vicenda.